Hanno fatto eruzione nel magazzino di un'azienda tessile di Ponzone ed hanno fatto razzia di pregiate lane nella mattinata di lunedì. I due soggetti sono entrati nel magazzino di carico e scarico a bordo di un automezzo. Pistola alla mano hanno minacciato l'unico dipendente dell'azienda presente in quel momento. Dopo aver arraffato la merce disponibile, i rapinatori si sono allontanati velocemente per ignota destinazione a bordo dello stesso veicolo. Sotto shock ma fortunatamente illeso il lavoratore che non ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Il valore del bottino è ancora da stimare ma sicuramente ingente. Avviate immediatamente le indagini da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Biella e della compagnia di Cossato che dopo il primo sopralluogo tecnico stanno vagliando tutti gli elementi sotto la direzione della procura della Repubblica di Biella. Non si esclude nessuna pista e non trapelano particolari da parte degli inquirenti. Non è semplice identificare i rapinatori visto che sono entrati a volto coperto e pistola alla mano. I due malviventi inoltre si sono dileguati a bordo del furgone su cui erano arrivati ma come spesso accade il mezzo potrebbe essere con tutta probabilità rubato. La provenienza di chi compie questo tipo di reati con una certa organizzazione premeditazione spesso è di fuori provincia.